Amici di Player Insight, lo sappiamo, lo sappiamo ed era inevitabile perché questo è un gioco, stiamo parlando di Cyberpunk 2077 in cui non ci vuole certo un genio per andare a scoprire i bug, questo che vuol dire? Vi stiamo insultando, no? No, che ci avete mandato i bug di Cyberpunk ed è facile trovarli? Sì, questo sì, è molto facile trovarli e ce ne sono anche di miei durante la mia live Ce ne sono anche di miei durante le mie sessioni di gameplay, normali ragazzi, ce n'è per tutti i gusti Pensate, è talmente buggato che ce ne sono anche di alcuni utenti che non lo hanno neanche giocato Esatto, questa è una puntata esclusivamente dedicata, è una puntata speciale proprio a Cyberpunk 2077 Ovviamente Game Fails, nella sua versione standard, riprenderà tra un paio di settimane circa Guarda le sopracciglia che volano Sei vivo? Ah, ma sarebbe, io svolterei questa cosa, è più un problema queste sopracciglia Questo è che è cambiato da me tra l'altro Sì Va bene, va bene, va bene, no ma ci sta Tutto normale ragazzi Ci sta, ci sta, signori, non pensiate che sia Ma meglio di questo però Mamma mia Direttamente incerto Ma cosa? Forza a mezzo Ah, forza a mezzo, cioè comunque rattini Questo è capitato a me? Sì? Sì? Ecco Quello è spuntato da nulla È spuntato da nulla, ma va subito via Sì, ok E questo è cambiato una cosa simile, è un po' diversa Vabbè, allora è proprio un vizio Dove è andato? Io non, ok, stavo andando in bagno Solo che la porta era chiusa, l'unico modo era questo, no? Per poterla Quando ti chiamano due contemporaneamente Ma pensa, però guarda che bella unione che si è creata Questa è una cosa che non ho capito Guarda I bagni chimici, i bagni pubblici, questi stronti Guarda, ci riprova Un po' di difficoltà Sì? La stessa cosa E c'è una sorta di campo magnetico Ma anche qua, anche quest'altro ragazzo Prova a saltare Rimbalzo assurdo Ma forse hanno degli aumenti cibernetici Che li rendono così salterelli Qua ragazzi non lo so Non me lo chiedete Non, non so Ci sono due pistole Nessuno le sta tenendo Però qualcosa sta sparando Sì Va bene, va bene Vabbè, il rigor mortis Perché era messo male Si è sistemato È un po' troppo prima persona È una prima, primissima Una zera persona Cioè nel senso proprio da dentro Si vedono proprio gli occhi I denti I denti Bene, bene Bene Ti ho visto una mano in più secondo me E poi Beh, questo si porta ai suoi amiglietti Sì Ma è pure immune Ah Cioè non lo sta perdendo Non lo considera nemmeno E giustamente Cyberpunk è anche motorbugs, no? Infatti saliamo su questa macchina Proprio sul tetto Perché è una macchina volante Morto Si muore Ma tu perché sali sulle... Ma tu perché devi rompere il cazzo Tempo Ho troppo da fare Questo è successo a me Così camminavo e poi arriva qualcuno Che ha compenetrato Incidenti di senza senso ragazzi Perché? E poi è ripartita perfettamente La signora poi ha fatto un incidente gravissimo Ma... Beh, questo è normale ragazzi Volare con la moto Ma è che tu... Perché non sai? Non hai mai portato una moto Non hai portato una moto Però lui lo aggiusta Lui riesce ad aggiustare il bug Guarda io questa cosa la sapevo fare Guarda Allora, prima aggiustata Vediamo si può aggiustare un po' meglio Sì Giusto, perfetto Ma basta sparare sulle cose Perché non avete una pistola con cui fixare le cose? Io non lo capisco Questa vettura... Ecco Giustamente È normale, no? Ha partorito una motocicletta Questa macchina Ok, e se n'è andata E la moto rimane lì a gemere Guarda dove atterra sta cosa Sulla macchina E poi l'ha inglobata E la macchina si è trasformata In un agglomerato Ma per te che cazzo sta succedendo? Ma che cosa sta succedendo? Vabbè, abbiamo capito che Cyberpunk ha un problema con i veicoli Sì La macchina... Ecco Ah, non è che l'ha girata Si è girato lui rispetto alla moto E poi è sposa E poi è morto, va bene Perché? No, perché ragazzi Perché? Tu non l'hai visto Tra l'altro ha compenetrato anche il palazio No, no Mi dovete spiegare Tu non l'hai visto Però in realtà c'era una rampa Non è vero Non ci vedi però Questo entra compenetrando una persona Che era messa lì Sì Ok Morto Ma cos'era? Vediamo qui Vediamo qui Vediamo qui Dai, dai, dai Dai Mi ha dato soddisfazione Rivediamolo signori Dai Ah Ah Sì Un tuffo Di nuovo con la macchina pazzesca di prima Che ha partorito Sì Qua ricarica Continua un po' di volte così Eh? È il sottomondo Attenzione Però alla fine riesce a salvarsi Ma la macchina è a pezzi Non è che è a pezzi È un po' dentro l'asfalto E quindi giustamente escono fuori Soltanto alcune parti Vediamo che succede a questo Dai Un uomo distinto Sì Potremmo dire un uomo d'affari Attenzione È una bella macchina È un po' elaborata Ma Va bene Io non Ma non è che c'era una bomba No Era qualcuno Tipo un attacco mafioso Vabbè Già chiamare la moto E questa ti investe Non è una bella cosa Però è più brutto ancora Quando poi se ne va Ma proprio via Verso gli orizzonti Mamma mia Ok Vabbè Già che non è normale Che atterri normalmente Vabbè Però Senza farti niente Tu dici in colume È sempre sta cazzo di macchina Che caga le moto Mi piace come lui Proprio Se ne sta Proprio sbattendo totale Beh è la terza volta Che mi capita oggi Stamattina Comunque può salire Sulla moto Ma Dal cofano Ok Quindi gliela vede Sempre come interagibile Triggerato Però giustamente Adesso Quel signore si è scomodato Un attimo Dice Ma che sta succedendo È scomparso Scomparso L'abbiamo È lì Perfetto In colume Questo è capitato a me E non l'ho capito Ragazzi Cosa mi è successo Vabbè L'hai uscita No Da dove Il fantasma Del Natale Passato Che è arrivato Da davanti Però si è schiantato Ok Vabbè Questa si Questa è capitata Questa è capitata Anche a me Nello stesso punto E questa La t-pose È capitata a tanti Però è eccezionale Vediamo E pure compenetrata Nel divano Ci conosciamo No Non ci conosciamo Però No Meno male Meno male Alla neuro Devi andare Questo cosa fa Cosa fa Si sta esercitando Nel balletto Tipo la robo dance Esatto No È uno dei Candidati A imitare Michael Jackson Però male Mi ha ammazzato Gente per caso Sì Con le lame Tra lato Sì Questo inciampa E muore A sapersi quante volte Inciampano Io avrei tolto Questo parametro Della fisicità Forse l'avrei tolto E questo è chi sta sparando Ma mi costruisco E quello dici Ma io non È il suo alleato No Beh Anche io so suonare così Vabbè Così siamo bravi tutti Cioè almeno con Guitariro Sforzati No Un minimo Un minimo Mangiare così Mangiare così è il futuro Nel futuro tutti mangeremo così E nel futuro Ci si siede anche così Pensavo fosse morto o svenuto È vivo Si riposa così Vabbè Ma così è facile Facile Ma voglio Ma ci sono anche i bug Che ha riscontrato Raiden Durante le sue live Ma dai Gli ho staccato il braccio Ragazzi Ma che cazzo succede Vabbè Lo lamero Se lui si bugga Madonna mia Bug assurdo ragazzi Altro mese di Che cazzo fai Si è accasciato Ha capito dai Ti levo questo Così magari Te la giochi meglio Ti alzi Ti rendi conto Di come sei messo Ma guarda come stai Cosa Ha cambiato pure vestito Subito Ma poi questo Non l'avevo lasciato fuori È rimasto così Va bene Cyberpunk Io cerco di difenderti Però Mani in alto Mani in alto Perché questo è il fucile Se no esco la pistola È ora di farla finita Cyber psicopatico Di merda Questa non è una puntata standard Di Game Fails Quindi non dovrete votare Il miglior bug E il miglior bug Della scorsa volta Ve lo sveleremo Quindi nella prossima puntata Di Game Fails Che arriverà proprio a giorni E ragazzi Continuate a mandarci I vostri bug Seguendo le istruzioni In descrizione Anche di Cyberpunk Ovviamente Sì certo Perché poi man mano Non dedicheremo puntate intere A Cyberpunk Ma li inseriremo Nelle varie puntate Di Game Fails Anche se sappiamo Un po' come è successo In passato Quelle Assassin's Creed Che sarà la parte preponderante Però finché faranno ridere Sarà bello E quindi ce li godremo insieme Signori Grazie mille Alla prossima